Un'autentica esclusiva per i telespettatori di Umbria Channel, la presenza di Stefano Gatti davanti alle nostre telecamere, lui solitamente restio ad apparire sotto i riflettori. Stefano che è vicepresidente della Polisportiva di Castelvieto e che è parte attiva ovviamente di questa sagra decima edizione, grande successo anche per voi che qui state, possiamo dire, al caldo. Assolutamente sì, questa sera mi sono messa a cuocere i bistecchi di Chianina, quindi per me è un'esperienza nuova e come diceva lui a me non piace stare davanti alla telecamera, però per Castelvieto lo faccio e è un piacere. Noi guardi, riusciamo qui a coinvolgere tutto il paese, una volta l'anno però tutti insieme, siamo una famiglia perché siamo un paese di 500 persone. Abbiamo un sindaco di Castelvieto, un amministratore della società che fa lo sponsor al Perugia Calcio, da quest'anno come ti dicevo alla Sir e lo faccio anche alla festa. Quindi per me è un grosso piacere e una soddisfazione vedere tutti questi ragazzi giovani o meno giovani che si collabora e è un piacere veramente. Stare qui tutti insieme sviluppa davvero un senso di appartenenza, di amore, di passione per il proprio paese. Sì, si rivivono le usanze di una volta e veramente ti fa sentire le cose importanti della vita che durante la settimana o i mesi quel lavoro purtroppo vanno persi. I forti infissi, il vostro marchio è ormai leader in Italia e non solo e si è caratterizzato in Umbria in particolare per la presenza in ambito sportivo. Lo ricordavi tu, accanto al Perugia Calcio, in maniera importante da questa stagione anche accanto alla Sir, siete un'azienda a vocazione forte dal punto di vista sportivo. Sì, come ho detto anche quando ho avuto la conferenza col Presidente Santo Padre che per noi è una cosa che ce la sentiamo dentro. Sì, è importante come marketing, come tutto, però ce la sentiamo perché siamo ragazzi di Perugia e per noi è importante stare sulla maglia del Perugia. Da quest'anno, come ti dicevo, stare sulla maglia del Libero e della Sir, sia in Coppa dei Campioni che in campionato, che quest'anno c'è una squadra importante. Ma anche il Perugia quest'anno ha fatto una squadra veramente importante. E poi con Santo Padre c'è un rapporto, una maglia da tre anni, c'è una stima reciproca e ci piace proprio fare questo. Poi naturalmente vediamo che sono i risultati, quindi va bene così. Ed è uno spettacolo assoluto vedere queste magliette nere con questa bellissima scritta arancione, indossa tutti i ragazzi a questo esercito di piccoli volontari che qui sono veramente una forza della natura. Sì, sì, è questa la soddisfazione e è questo che poi io ho dei dipendenti con me, collaboratori più che dipendenti, amici che del paese, siamo 60 persone ma 10-12 sono del paese, quindi è una responsabilità ancora più grande la mia. Come vicepresidente e come appassionato del suo paese, dai proventi di questa festa, qual è il tuo sogno? Che cosa vorresti che venisse realizzato? Guarda, noi siamo su un ex campo sportivo, no? Ci piacerebbe che questo campo, come già abbiamo messo in piedi con Walter e Cristian, hanno un'idea di darlo lì alla Wisp o questi qui che fanno i campionati, di farlo in erba e poi che almeno la gente giri, è frequentata perché come ti dicevo il paese è piccolo. L'unico punto di ritrovo è la bocciofila che però ha visto lo sport e la bocce, io pratico anche le bocce, sono un po' scarso però lo pratico. E' importante di creare del convivio, poi c'è il bar, per sfruttare ancora di più il paese perché a questo paese, non so perché, non so però, la gente ci viene contenta e si trova bene. Perché forse siamo delle persone umili, a parte uno il lavoro, il ruolo che svolge o meno, però che stiamo sempre, mi vedi, delle persone semplici e onesti. Bravi, complimenti. Grazie, grazie, buona serata. Grazie.